Carissimi amici, buonasera. Stasera volevo fare un video un po' diverso da solito per parlare di questa mia esperienza su YouTube. Un'esperienza nata un po' casualmente, io non ho mai inseguito chissà quali record e soltanto per mettere un po' dentro a questo contenitore la mia esperienza e le mie opinioni. Sono stato introdotto a questo ambiente dalla passione di mio figlio che come sapete è Gianluca Castellano che ha il suo canale interista e che raccoglie penso un discreto successo. Io faccio come sapete video a volte calcistici a volte no e in questo periodo mi sono un po' interessato ai vari youtuber che stanno in giro e vedete ho fatto una mia classifica nel senso che alcuni mi vedono un po' sconcertato, vedete io dico un'opinione poi ognuno resta della sua ovviamente. Alcuni sono effettivamente persone come dire reali, sincere secondo me che trasmettono un loro contenuto, uno sia d'accordo o non sia d'accordo, altri sono veramente spocciosi, falsi, artificiosi e a volte stento a capire come possano stare sul web. Il web diventa un contenitore poi effettivamente in cui ci sta molta spazzatura. Allora scusatemi se dico la mia, io ho fatto quattro nomi che io penso siano la negatività e quattro invece che penso siano la positività di questo mondo, almeno anche legato un po' al calcio. Uno che non mi piace, che ho visto, che c'è un sacco di iscritti, un certo Gobbo Man, un romano. Vedete, a parte va bene, c'è una voce nasale che è un po' fastidiosa ma questa è un'opinione personale. Ma poi andate a vedere i soliti video banali su Bits Bolt, che non è stato preso dal Borussia, Debrai, opinioni sull'auto a Roma Stinez, l'amichevole dell'Italia, su Balotelli. Sono i soliti video così giusto per avere delle visualizzazioni e non si sa. Questi personaggi anonimi, come questo tizio, che arriva 115.000 iscritte. Io ho dei dubbi anche su questo modo di fare iscrizioni. Anch'io se volessi fare iscrizioni come penso facciano questi personaggi, chissà a quanto sarei, ma a me è solo un divertimento. Quindi poi leggo, lui si definisce calcio, canale di calcio, gaming e more. More. More di più. Nulla. Poi ci sta una signorina, una certa Serenca 23. Incredibile. Io rimango basito, io ho una certa età, certamente vicino a questa ragazzina. C'ha 7.800 iscritti. Credo sia del sud, una calabrese dall'accento. Ma voglio dire, questa ragazza, avete così, vuota, non solo vuota, ma che fa dei video imbarazzanti. Io, anzi, le voglio fare pubblicità. Andate a vedere che cosa è triste. Un video sulla teoria, la tese è piatta o non è piatta. Sarà che la tese è piatta, forse o non è piatto, ma forse è piatto anche il sole, ci dice o la luna. Ma vedete, non si tratta nemmeno di ironia, di ironia. No, 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 no. Effettivamente, fate delle ipotesi che rimanda ai tempi, diciamo, di Galileo. Eppure qualcuno le dovrebbe dire che siamo nel 2018, evidentemente. Poi altri video, la carne umana, sui cannibali, la carne umana, che sapute c'è, se è buona, non è buona. Poi altri video ho visto sul paranormale, area paranormale, i rettiliani fra di noi. Attenzione, ci sono i rettiliani. Poi lei ha anche fatto delle foto inquietanti. Ho scattato una foto inquietante. Venite a vedere il mio video. E poi condisce tutto con l'interismo. Non ha partito dall'Inter, ma 5-0, sono contento. Ah no, non ha vinto, sono scontento. Veramente, io penso che sia un vuoto, una scatola vuota. Un altro che non mi piace è questo veramente incredibile, un successo finto, secondo me, questo Sick Wolf. Non ho timore a dire il nome di questo ragazzino ventenne, un romano lentigginoso, beh, avete capito, che ha 200.000 iscritti. Non si sa come. Se voi andate a vedere il suo canale, questo ragazzino mi sembra un anonimo inutile personaggio perché, allora, vedete tutti i video, gli ultimi video, la panchina d'oro ad Allegri, Bolt, Borussia, Mario Rui, De Vrij, all'Inter, su Milinkovic Savic. Insomma, fa circa tre video al giorno, ovviamente per ringraziare questi soldi che dà YouTube, ma che mal si... video che adesso stanno in medio sulle 15.000 visualizzazioni con 200.000 iscritti. Allora voglio dire, come ci arrivi, come ci arriva questo ragazzino a 200.000 iscritti? Evidentemente fa pensare male. Ma che cosa, se vi andate a comprare gli iscritti, forse per far vedere che avete due o trecentomila iscritti e poi le visualizzazioni dove stanno? Ma che visualizzazione vuoi fare quando devi fare tre video al giorno su nulla? Poi non c'ha caratteristiche, non c'ha simpatia, quella voce così un po' svelta, veloce, buonasera, buonasera, vediamo l'Inter, ha comprato De Vrij, forse si dice che l'ha comprato, non si sa se l'ha comprato però, ma poi ha comprato forse anche a Samoa, ma non ha una caratteristica propria, non ha uno spessore, perlomeno, secondo me. Poi, cambiando genere, mi ha colpito un fenomeno che forse è anche simpatico, ma inquietante, quello di un signore calabrese, famoso ormai YouTube anche io, che è un fenomeno esploso negli ultimi tre mesi, un signore che pesa duecentottanta chili e che tre mesi fa pregava le persone di farlo arrivare a mille iscritti per poter monetizzare ed è esploso in tre mesi arrivato a 75.000 iscritti, ma cosa fa? Fa un qualcosa di raccapricciante, ovvero, avendo quella mole, fa dei pranzi, delle cene, degli spuntini enormi, registrandoli, registrandoli, quindi, famoso, i chili di tiramisù col pollo, panini, lasagna con zucca e funghetti, insomma, è una cosa molto diseducativa, si dice, ma quello lo fa su se stesso, siamo d'accordo, ma è diseducativa comunque, come, sommi un po' allo Stato, allo Stato che dice, no, le sigarette fanno male, mette vicino ai pacchetti, attenzione, pericolo di morte, e poi li ventano, insomma, e quindi, e poi lo chiamano pure maestro, 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 sotto nei commenti. Mentre vediamo, diciamo, gli esempi invece positivi per me, a proposito di maestro, è un personaggio che è anche, posso dire, anche un mio amico, conoscente, ma forse posso dire anche amico, donato in inglese, che io ho conosciuto, ho visto più volte personalmente, anzi, profitto se casomai mi stesse vedendo per salutarlo, ci sono rimasto malissimo, che ultimamente gli hanno chiuso per un periodo il canale, perché hanno fatto gli strike, come si dice, le segnalazioni, ma vedete, adesso ha ripreso, ma egli ha una sua caratteristica, ma già dall'inizio, ma non lo dico per piageria, già dall'inizio si vedeva non solo la sua competenza, che ha fatto l'arbitro per tanti anni, ed è maestro di musica, ma quasi può dire maestro, e poi c'è quel suo modo di porsi, che può piacere o non può piacere, ma in effetti è il suo, è il suo, e l'ha sempre avuto al primo momento, gli altri copiano, quindi un saluto e onore, onore a lui. Poi un altro che mi piace è pure Luca Mastrancio, Luca Mastrancio perché con i suoi 35.000 iscritti, ma come si fa a non dire che è un personaggio? È un personaggio, io direi, simpatico, quasi da film, da film, divertentissimo, è simpaticissimo, pimpante e pieno di iniziative, è anche un modo di riposo, di gesticolare, di parlare del tutto originale, originale, è veramente una persona, quando lo vedi, ti mette di buon umore, nel bene e nel male, quando la squadra va bene o quando la squadra va male, quindi veramente mi piace, come pure interessante trovo a Fabio Bergomi, Fabio Bergomi il filosofo interista, lui è milanese, ha 10.200 iscritti, è un personaggio politico, interista di base, molto interista, diciamo quasi un filosofo, quasi un sociologo, quasi mi somiglio un pochino in questo senso qua, lui è molto più ironico, molto più esperto, soprattutto anche in argomenti vari, sociali, sociologici, in medicina, medicina dello sport, diete, quindi lui ha un canale che spazia molto ed è interessante, ha una sua caratteristica, è un personaggio ben strutturato ben definito, che si fa ascoltare, l'unica cosa, forse a volte non capisco perché fa dei video che non guarda mai in telecamera, forse questo è un, se mi posso permettere, un piccolo consiglio, a volte anche di guardare, perché sembra che guardi sempre da un'altra parte, questa è anche un'altra caratteristica, ma onore a lui, a me piace moltissimo e lo sento sempre con interesse. L'ultima, l'ultima e chiudo perché mi sono un po' dilungato, un saluto anche a uno gioventino, mi sapete io sono interista, quindi noi ci odiamo con i gioventini, ma ci sta un personaggio che si chiama Damon Wilde, che mi ha fatto conoscere il mio figlio Gianluca, l'interista napoletano, me l'ha fatto conoscere, veramente è una persona, uno gioventino, uno youtuber che magari non c'ha proprio tantissimi iscritti, ma vedete i suoi video sono di un equilibrio, un equilibrio eccezionale, di una competenza, di una pagatezza, di una moderazione, lui è un domagnole, è un bonario, anche se è gioventino, ma veramente c'è un modo di interloquire, è una sportività di base, tant'è che noi abbiamo promesso che magari prossimamente, magari non so, tra un paio di mesi, forse a giugno, se andiamo così in famiglia in Romagna, fra Rimini, Riccione, senz'altro, senz'altro andiamo a trovare, perché sarà un piacere stringere la mano e prendere un caffè insieme, stare un po' insieme, quindi veramente un altro esempio di persona equilibrata e molto molto sportiva, molto molto sportiva e pagata. Quindi un saluto a Damon Wilde e questo, diciamo, è un po' il riassunto che ho fatto l'idea, che ha fatto un neofita come me che si affaccia, che osserva questo mondo di YouTube senza alcun tipo di interesse specifico, perché a volte io mi occupo soprattutto di argomenti legati alla cronaca nera soprattutto, però adesso seguendo un po' anche le attività di mio figlio, ho visto un po' questo panorama di YouTube soprattutto legati anche al mondo racistico e sono rimasto basito da molti esempi negativi, ne ho citato quattro ma ne potrei citare altri dieci e di alcuni esempi positivi che ho citato che invece hanno una loro caratteristica, una loro strutturazione e secondo me fanno il bene di YouTube, quindi separare il bene dal male. È una mia opinione personale, quindi ognuno è libero di pensare come vuole, io ho detto la mia, quindi vi lascio così, con questa mia opinione, vi saluto a tutti, grazie a tutti di avermi seguito e magari se vi iscrivete mi fate pure un piacere. Un saluto a tutti e un abbraccio, ciao!